Nunzia de Girolamo è svenuta in trasmissione, la conduttrice a pochi minuti dall'inizio della trasmissione in diretta ha avuto un malore, infatti per la prima volta l'inizio di estate in diretta la conduttrice si è mostrata seduta su una poltroncina, è stata proprio lei a raccontare che è svenuta e gli autori le hanno portato le medicine e qualcosa di fresco.